Aggressività. Posso portare il mio cane in passeggiata? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi voglio rispondere ad una domanda che mi viene posta di frequente. Il mio cane è aggressivo. Posso portarlo in giro al guinzaglio? La mia risposta è sì, ma con delle precauzioni da osservare. Intanto è opportuno gestire l'uso del guinzaglio e del collare. Di questo ne avevo già parlato in video precedenti, ma vediamo di dare una rinfrescata all'argomento. Con un cane affetto da aggressività, la percentuale di incidenti al guinzaglio aumenta in proporzione al numero di incontri. Per tal modo è importantissimo seguire le poche e semplici regole che vi espongo qui di seguito. Non tenere il guinzaglio con una mano sola. Non arrotolarlo sulla mano e sull'avambraccio. Non infilare la mano nella maniglia del guinzaglio. Non sbilanciare mai il peso del corpo tentando di contenere il cane, perché si finirà per seguirlo e il rischio di cadere è molto alto. Tenere delle distanze di altri cani. La distanza giusta è quella dove il cane non abbaia o non dimostra segnali avversivi e i suoi consimili. Tenere due mani sul guinzaglio, esattamente una in fila, in fila, in fila, in fila e non tirare verso l'alto il guinzaglio. Tenere lo sguardo fisso sul cane e controllare a spot l'ambiente circostante. Prediligere guinzagli non più lunghi di un metro e mezzo è una questione di comodità. Non mettere mai per quanto possibile il guinzaglio in tensione. In caso di necessità accorciare il guinzaglio. Far indossare al cane la museruola. Queste sono le regole di sopravvivenza per le passeggiate di routine del cane. È ovvio che dovrete rivolgervi ad un professionista qualora dovreste notare dei comportamenti strani nel vostro cane. Spero che questo video vi possa essere utile nella gestione del vostro cane e continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sui nostri canali social. Grazie.